buongiorno ragazzi oggi sono impegnatissimo a salvare questa bellissima caretta caretta che è rimasta impigliata in un pallamito ho già avvisato la capitaneria di porto che sta arrivando a prenderla pop 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 vediamo un po che cosa possiamo fare per lei purtroppo è molto impigliata col pallamito ho paura che a tagliarlo aspettiamo l'arrivo del veterinario buonasera comanda un po bagnato non toccate niente adesso la tiriamo giù ho fatto già il possibile stava attaccata sul fondo sta avvenendo il veterinario non ce la fate con quella è grande è l'unica cosa che abbiamo intanto la mettiamo con l'acqua di mare dentro si però ragazzi vi dico una cosa che posso anche aspettare se la mettiamo là dentro e non ce la fa col collo non respira più si sta bagnato allora ragazzi sto per consegnare la caretta caretta al maresciallo colella della capitaneria di porto di taranto che si è prestato i ragazzi si stanno accingendo a preparare la capitaneria di porto di taranto una volta consegnata la tattaruga riprenderò la mia battuta di pesca è un po sofferente ma adesso arriverà il veterinario da policoro qualche amo conficcato più di qualche amo conficcato non possiamo ben vedere con questa potete riprendere sta già acceso tutto è bene quello che finisce è bene grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti